Buongiorno a tutti amici carissimi, grande famiglia e buon sabato, buon fine settimana. Che il Signore vi dia pace, che il Signore visiti i vostri cuori, che il Signore vi accompagni anche in questo giorno. Invocatelo sempre l'aiuto del Signore, cercate sempre la sua presenza nella vostra vita. Siate piccoli, siate umili, siate sempre bisognosi della sua benedizione. E allora insieme adesso affidiamo al Signore questo giorno che è davanti a noi, con tutto ciò che dobbiamo fare, con tutte le cose che dobbiamo affrontare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Accogliete la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vorrei ricordare che neanche oggi ci sarà la coroncina alla Divina Misericordia, al Sacro Cuore di Gesù, perché mio nipotino farà la prima comunione e quindi sono con lui, con la famiglia a festeggiare. E io vi ringrazio, vi abbraccio e vi voglio bene. Ciao a tutti.